Buongiorno e benvenuti alla demo YotaCover. Oggi vi dimostrerò come è possibile personalizzare il vostro schermo always on per renderlo più accattivante e divertente. Tutte le funzioni si possono impostare attraverso l'applicazione YotaHub dallo schermo a colori. Aprite YotaHub e scegliete YotaCover per accedere alle impostazioni. Come potete vedere si possono istantaneamente scegliere le immagini del proprio smartphone, ma YotaCover vi permette anche di configurare slideshow direttamente da Instagram o Facebook. Quando impostate una YotaCover sullo schermo always on avrete sempre il contatore delle notifiche sotto controllo. Per la vostra privacy il contenuto rimarrà nascosto sino a quando non deciderete di visualizzarlo. O forse preferirete YotaCast, un'accurata selezione di immagini di rinomati artisti. Selezionate un modello, un paesaggio accattivante ed impostatelo come cover o fate scorrere una slideshow. Con YotaCover potete personalizzare il vostro Yotafone per farlo diventare più avvincente, personale e divertente.